Il bitonte spugna con merito e il tonino d'angelo prosegue la sua rincorsa ad handicap alla vetta del girone e comincia a scolpire la sua identità nel bronzo di una tempra incrollabile. Mister Nicola Ragno erge il consueto muro, si ripetta Colella, l'arcigno facitor di gioco capece affiancato dall'instancabile gladiatore Mariani in mediana, sulla destra subito triarico ad imperversare e davanti Pozzebon a duettare con Capitan Lattanzio. Monticciolo sistema in guise a speculare i suoi con l'anzolla e russo sovrani del reparto arretrato, il felpato talento langone con turu stile stiletto biason nel mezzo e croce tedesco a tradurre in occasioni le invenzioni di Guadalupe. Minuto 7, capocciata energica di Sirri, inchioda sul prato il cuoio Bozzi. 120 secondi dopo lancio chilometrico di Capece, sponda di Lattanzio e tappin fragoroso di Petta, vantaggio degli ospiti. Al 22esimo Capece artiglia in scivolata disperata la sfera sul cross di Casiello che aveva dialogato abilmente con Croce. Ed è proprio la punta federiciana che poco dopo su corne di Biason in corne schiaggia il palo. A 5 dalla mezza sul servizio di Pierulli fugge triarico sulla destra, dribbling e botta sotto l'incrocio, Bozzi si inarca felino e respinge. Minuto 32, Figliola plana sui piedi di Russo, Lanzolla ci riprove sulla rega bianca, ribatte salvifico Petta. A 10 dall'intervallo, calcio di punizione Beffardo di Sirri da 30 metri e palla rasoterra nell'angolino sinistro della porta avversa. Solo due minuti e guizzo prodigioso di Figliola su testa di Langone a colpo sicuro. Si riparte con i biancorossi più aggressivi e infatti al tredicesimo l'altamura accorcia. Angolo di Tedesco da destra, incornata di croce, assist del palo del Rico che ribadisce in rete. Minuto 24, il bitonto triplica, parabola succulenta di Pierulli, mezza girata a volante del puntero andriese. Il due biancorosso intercetta con la mano ed è penalty. Dal dischetto l'attanzio segna due volte, prima calciando tremebondo, ma l'arbitro annulla per inopinato affollamento in aria, poi spiazzando l'estremo di casa. I leoncelli, poco prima della mezz'ora, perdono il loro condottiero in panca per una parola che avrà irritato l'assistente un po' permaloso di Mucera. È il trentaduesimo quando Tedesco in zucca e Figliola afferra plastico il pallone. Mirabile lancio di Biasson tre primi dopo, per croce, i difensori e il goalkeeper lo abbattono, Guadaluppi supera dagli undici metri il portierino neroverde. Si susseguono ora gli assalti all'arma bianca al Fortino Bitontino che tiene botta. In pieno recupero, Langone controlla dal limite, scocca un bolide che i guantoni del solito Figliola annichiliscono. Il derby leonino della Murgia finisce così, con un successo avventuroso ed emozionante degli uomini del patron Francesco Rossiello.